Chiudono i negozi, 3.000 in 5 anni a Torino, le colpe della politica, l'industria non tira più, soltanto 13 assunti su 100, gli altri vanno al terziario. Il caso, la via Crucis di un immigrato sballottato dalla burocrazia, tre sorelle suicide a Carmagnola, perché? Dal mondo, coronavirus, epidemia, senza democrazia. A Kabul, la parrocchia cattolica. Cultura, libri, la battaglia degli sconti, i falò della libertà dei valdesi, verso l'economi di Francesco ad Assisi, chiesa, convegno su teologia e spiritualità, in attesa del cardinal Maradiaga, il papa e l'Amazzonia, il festival di Sanremo e la notte degli Oscar, il carnevale negli oratori, a Valdocco torna a risplendere la cappella, una campagna contro l'odio nello sport, la voce è il tempo, l'altro giornale.